Musica Bella a tutti ragazzi, un salve al suo nome di un nuovo video Oggi, se non mi sbaglio, stiamo a ottava missione della demo speciale di Vamo Zaffiro Alfa Rubinomica Forse, se non mi sbaglio proprio No, settima volta Va bene, a me sembrava... ok Ah no, stiamo a settima missione apparentemente Anche se l'avevo già fatta la... Va bene, niente, lasciate stare ragazzi, siamo sul culo di Latias ora E quindi direi di aspettare finché dopo non arriviamo a st'isola di allenatori Questi allenatori hanno bisogno di uno sfidante per il loro allenamento quanto su di te Ok, visto che ho quasi rivelato tutte le mega evoluzioni nuove E vorrei un attimo vedere... Che noia, magari possiamo ingannare il tempo lottando Ora voglio un attimo vedere pure il mega blaziken Parte la sfida di Gaetano e la gandone Oh, la gandone, bro Oh, 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 bregan, bro Un linone Perfetto, sarà perfetto per il coso, eh Per blaziken Così ti spacca il culo, brother Ti spacca il culo, brother No, quelli lì, che stai fatto qua? Comunque ragazzi, visto che non metterò più i primi due episodi Che tanto voi scriverete i momenti sempre di non metterli Mostrerò anche questa qui, che non vi ho mostrato più niente Che sarebbe la schermata di lotta Che la lotta sarà una specie di fumetto E poi la borsa sarà una borsa La fuga sarà un piede E Pokémon sarà il simbolo della Pokéball Solo mostrerò questo qui, così almeno E quindi direi subito Dimostrare anche la schermata di Pokémon Ci stanno ormai siamo qui E visto che siamo Mettiamo blaziken Sostituisci Segugio Stato identificato Ok, quindi direi di continuare a far vedere un attimo Schermata più giù Così almeno Lotta Mega evoluzione Doppio calcio Mega blaziken Anche se l'abbiamo già visto 50.000 volte Brutto foglio Ecco, mega blaziken Ecco, mega blaziken L'abbiamo già visto 50.000 volte Pokémon X-Y L'inone è morto L'inone non c'è È andato via Ora non è più Nel gioco mio Gleli Poi Gleli Prendete punti Il conflitto Gaetano Il Pirla Può bastare Hai vinto 300 Oh, che bello Io spero che i soldi Ti possano sferire il gioco Perché se no mi fanno incavolare Per due le cantone Combattiamo Pirla Ma certo accetto la sfida Molti soldi Eh, sto Pirla Ando me li prendo tutti io Bitch Ando me li prendo tutti io Brutti Pirla Bibibib Gabriele Linone Ma non c'è nessuno che siamo salvatori in questo gioco C'è proprio nessuno Che sfiga Cioè, quanto odio sta cosa Ok, mega volgiamo il nostro Gleli Alito Gelido La Gleli Vai, vai Gleli The Syndicate Project Non c'è nessuno 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 Clary Clary si è avuto il mega Clary Ragazzi, mi accorti che la sua La bocca di Clary Non si chiude mai Cioè, io credo che sia così scioccato Dalla sua mega evoluzione Che rimane La bocca rimane sempre aperta Oh Perché è così scioccato Dalla sua forza Proprio Cioè Come ho fatto a perdere Perché è un Pirla Ecco perché Ah, 3600 Ok Ippocollari Ippocollari Pokémon Selvatici Non mi rompete le balle Mi sembri parecchio forte Sarà un bel allenamento Eh, lo so Elegantone Slakoff Cioè, ma dai Pokémon P200 no, eh No Proprio no, eh Avanti, Clary Vai, affangito Muori Mike Lely Usa Gelodenti È un peccato Hanno stato solo queste qua Deve evoluzione Era meglio smettere un flash Arpedo Oppure Camerupt Cioè, perché Questi qua Perché sennò Fanno parte del gioco Cioè È un peccato Che non l'hanno messi però È proprio un peccato Sono due Estate 105 3 Stiamo a La radio Sabato Alex 1 Ed oggi giocheremo A Pokémon Zaffero Alfa Rubino Omega Che fa 100 Che fa Proprio Niente Fa Proprio Niente Questo qua Mi ha dato 280 Più almeno Complimenti Scoperto tutti I allenatori Grazie Cosa avevo Troppo forte Sono Troppo Forte Sei stato un ottimo Compagno di allenamento Bene Torniamo a Verde Azzupoli Verde Azzupoli Verde Azzupoli Do you like Verde Azzupoli Ok Ok C'è una festa Ottimo lavoro Orlando Sono orgoglioso di te Grazie È ora di salutarci nuovamente Mi sono sicuro Ci ricorderemo presto Comunque ragazzi Ora vi mostrano sempre Il trailer di sempre Nella rottura di balle Come sempre ragazzi Questo è tutto Ci vediamo Su un nuovo video Ci rimangono due missioni O tre missioni L'ultima missione Io spero di vedere anche Di mettere su questo gameplay Anche una missione speciale La missione segreta Che si troverà Visto che Non ho messo la prima parte Che è comunque quella principale Spero almeno di mettere l'ultima Comunque ragazzi Come sempre Lasciate un like Se vede Questo è tutto C'è un video Bella ragazzi Bitch Ciao